Si avverte una situazione di pericolo intorno a Via della Pace nei pressi della scuola primaria Serroni di San Nicolò a Tordino. Cosa succede? Allora, innanzitutto il problema principale è la manutenzione che ferma da fin troppo tempo. Diciamo che negli anni passati non è che ci sono stati dei... così... siamo stati molto ascoltati, però effettivamente almeno la situazione di sicurezza nell'emergenza veniva più che altro ascoltata. Io il problema principale in questo momento nella primaria Serroni è la recinzione che nei pressi della scuola è alquanto una situazione assurda perché è completamente buttata a terra, ci sono dei sassi staccati addirittura dal terreno, con il pericolo appunto essendo una zona di passaggio che possa cadere, quindi giustamente il pericolo addosso ai passanti o comunque al ridosso delle macchine. Io ho già fatto presente purtroppo più volte all'amministrazione, sono stata ascoltata, sì, però ad oggi purtroppo la manutenzione è ancora ferma. Quindi il vero problema è la mancanza di una recinzione e questi massi pericolari. Esatto, sì, i massi soprattutto che sono staccati proprio dal terreno, quindi il pericolo c'è tutti i giorni. Oltretutto con questa recensione buttata a terra è anche una fermata autobus per i ragazzi delle scuole secondarie e superiori e al passaggio non essendoci una sorta di sicurezza è anche un pericolo che anche se leggermente spostando un piede sulla loro sinistra possono cadere nel vuoto. Quindi l'amministrazione comunale dovrebbe intervenire al più presto? Sì, se fosse possibile sì, al più presto perché davvero siamo in emergenza.